Musica Domenica prossima 29 maggio a San Salvo la Casa della Cultura a partire dalle 17.30 ci sarà il primo convegno abruzzese della Feder Civica. L'evento è organizzato da San Salvo Lavora che è una lista civica, un comitato civico locale con cui viene presentata appunto questa nuova realtà di Feder Civica. Ma io chiederei direttamente al Presidente, al coordinatore, perché il Presidente Santoyem e il coordinatore dello Svaldo Menna che peraltro introdurrà i lavori. Ecco, innanzitutto di dirci che cos'è la Feder Civica. Allora, la Feder Civica è l'organismo nazionale che mette insieme tutti i comitati civici e le liste civiche di tutto il territorio nazionale. È una realtà che è nata, per la verità, probabilmente insieme a noi, qualche annetto soltanto prima di noi praticamente, quasi insieme a noi a Regione Presidente. Tanto è vero che fondamentalmente loro hanno raccolto già un buon risultato a livello nazionale e hanno affidato a noi la Regione Abruzzo e facciamo questo primo incontro appunto domenica alle 17.30, parte questo nuovo progetto alle 17.30 qui alla Sala della Cultura della nostra città. e invito davvero tutti i nostri concittadini a venire in quanto, se vedete i nostri volantini, la dicitura è forte ai cittadini in prima fila. Quindi vorremmo proprio mettere davvero i cittadini in prima fila quello che è vivice alle liste civiche di tutto il territorio nazionale. Io mi sono mosso, diciamo, come parmio, normalmente le cose o le faccio oppure non le faccio. Tanto è vero che saranno presenti in questa prima fila chieti terra. Cioè i rappresentanti delle liste civiche di chieti? I rappresentanti delle liste civiche, non soltanto liste, comitati civici e liste civiche. Tanto è vero che quella di chieti è chiamata il popolo d'Abruzzo, il popolo d'Abruzzo racchiude appunto Chieti, Teramo, Francavilla e Montesilvano. Il popolo d'Abruzzo quindi è un'unica organizzazione che già diffusa nel piccolo territorio nell'alto chietino praticamente ci sarà questo rappresentante. Quindi poi ho contattato Ortona, ci sarà Ortona, ci sarà Vasto, Monteodorisio, Lentella, Pizzoferrato, Castelfrentano, Rocca-Montepiano, Lanciano, Orsogna, Miglianico, Celenza-Sultrigno, Archie, Schiavi d'Abruzzo e Casalbordino. Abbiamo fatto secondo me un grandissimo lavoro in pochissimo tempo perché siamo federati con Federcivica da qualche mese, Presidente, un paio di mesi e quindi abbiamo fatto già veramente un grande lavoro. E sono in contatto vero con Giulio Borrelli, se lui ci sarà quel giorno anche lui entrerà probabilmente a far parte con il suo movimento, mi pare, civico-abruzzese, una cosa di questo genere, sì. Io l'ho invitato, mi ha promesso, abbiamo un ni da parte sua. Se verrà sarà ben accetto e anzi addirittura gli cederò assolutamente la mia posizione, quella regionale e anche quella nazionale perché al Comitato Civico Cittadino la Federcivica ha riservato una postazione nazionale e quindi chiedere se verrà Giulio Borrelli, io gli cederei volentieri la mia poltrona regionale e quella nazionale che è il portavoce nazionale di Federcivica.